Benvenuti all'edizione di domenica 8 aprile 2012 e buona Pasqua a tutti da Leanza. Questa settimana ha preso vita il giovedì Cabana Club che dopo la prima serata di rodaggio propone l'appuntamento per giovedì 12 aprile dalle 22 al Cabana Club allo Smile Village con trada olivola Benevento. Il giovedì quello feel food, drink, music and show a tutto tondo vista anche l'architettura del locale, nuovo e con la sua nuova concezione. Le novità riguarderanno anche l'entertainment show che proporrà Lasta Selvaggia, Cintrami Dolcemente e Jack Rabbit Slim in perfetto stile pub fiction. L'appuntamento che ha caratterizzato la settimana pasquale è stato il venerdì, quello cittadino per eccellenza, la nuit, che si può sintetizzare con una sola parola, record, di presenze, di qualità, di allegria e una delle serate che vede la presenza delle donne più belle. Sembra che in Cabana Smile facciano i casting. Successo ottenuto grazie alla collaborazione di tutti quelli che si sono adoperati a tal fine e dato oggettivo l'impegno nella coordinazione del tutto di Luca Paiuca. Senza dimenticare però la collaborazione dei locali del centro storico in particolar modo, il Deja Vu, il Charlie Brown del buon Mario Camarota, il Moquito Art di Mimmo Francese, il Glam Café Wine Bar ed il Traiano 40. Ieri invece, sabato 7, ha visto il pienone nei differenti stili e nelle differenti proposte da parte di Biblos in Contrada Roseto a Benevento, del Sayonara Luxo di Disco all'uscita Benevento a Ovest ed in Valle Caudina invece il marchio, quello di garanzia ultra trentennale, del Piper Café. Ma veniamo ad un po' di gossip che ci arriva dal mondo della notte milanese. Salvatore Stallone sta riscuotendo numerosissimi successi e consensi grazie all'oggettiva qualità dei suoi DJ set che l'hanno visto ieri notte 7 al Poliritmia Club dove è stato delirio totale. Ma veniamo ad oggi domenica 8 aprile che vede il Batulum di Baduli dopo i successi uno dopo l'altro proporre per questa sera domenica pasquale una notte all'insegna del puro e riverente divertimento con lo show quello più imitato e il DJ set d'eccezione di Domenico Girolamo e Umberto Finelli. Insomma uova pasquali ma senza brutte sorprese questa sera domenica 8 aprile al Batulum di Baduli a Benevento. In Irpinia sempre per questa sera domenica pasquale sono Shamrock insieme a Melagodo ad aspettarvi invece al Clalù. Passiamo ad una originalissima proposta per domani pasquetta. La proposta arriva in perfetto stile M con uno dei sette peccati capitali che è l'acidia adattissimo al giorno di pasquetta perché è il completo disinteresse per il lavoro e il piacere di vivere nell'ozio più totale senza stress e senza stimoli. Questo party è come fare per accedervi? Dove si tiene? Beh è Secret Location 7M a Cidia. Per tutti i prossimi aggiornamenti ci vediamo nella prossima edizione. Cosa dirvi? Beh di nuovo buona Pasqua a tutti e a pasquetta domani divertitevi e fatelo, 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 fatelo. Peace and love. Ciao.